Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Tranchi, che mi chiede di parlare del film scritto e diretto da Victor Salva nel 2001, Jeepers Creepers, il canto del diavolo, prodotto da Francis Ford Coppola, è un film assolutamente tra i più belli horror degli ultimi 25 anni, con una costruzione del nostro cattivo, del nostro Creepers, veramente impressionante proprio a livello di costume, a livello di grafica, a livello di design, ma insomma è un film, come ho detto, spettaolare, che ha avuto il secondo, sempre diretto da Victor Salva, che è ancora più bello forse del primo, poi abbiamo avuto il Jeepers Creepers 3 girato con tre spicciole e una balla da Victor Salva, e poi abbiamo il nuovo Jeepers Creepers 4 del 2022, non girato da Salva, che fa veramente cacare al cazzo, e non riesce assolutamente a minimamente a far paura, come era veramente inquietante in questa favola nera, perché sembra di essere veramente una fiaba dei fratelli Grimm attualizzata ai tempi moderni, nella storia di Derry e sua sorella Trish, che praticamente stanno tornando a casa dal college per le vacanze di primavera. Sono su una strada deserta, in cui occhiano questo strano furgone che sembra praticamente alla due le rompere i coglioni e li passa accanto, e sono abbastanza sospettosi, e poi passano e vedono questo uomo, tutto col cappello e sì, che butta una specie di corpo dentro un tubo. I nostri non possono far altro che fermarsi, perché Derry è assolutamente attratto da tutto questo, e praticamente si butta dentro questo tubo, per il sbaglio va rifinito dentro questa cripta accanto a questa chiesa, dove vede dei corpi praticamente usciti in tutte le pareti, siamo dentro praticamente la casa piena di cadaveri di questo creeper. Quindi i due ragazzi hanno paura che sia un serial killer, scappano, praticamente si dirigono verso una stazione centrale di polizia, dove vengono chiamati da questa donna che però dice di avere dei poteri sensitivi, e gli dice praticamente di scappare assolutamente dal jeeper's creeper, che è questa creatura con le ali gigantesca che poi farà razzia anche appunto all'interno della stazione di polizia, fino a cercare appunto di ammazzare i nostri, per un film assolutamente perfetto sotto il punto di vista visivo. Una grandissima messa in scena con una fotografia micidiale di Don Fondleroy, che fa un lavoro a dir poco mirabile, così come il montaggio che crea una tensione altissima, è ottimo il lavoro di Ed Marx, così come nelle musiche, musiche che riescono finalmente ad essere presenti ma messe al punto giusto, proprio un grande Victor Salva. E Bennett Selvey appunto con le sue colonna sonale, lo aiuta tantissimo, bravo Justin Long nel ruolo di Derry, e molto brava anche Gina Phillips nel ruolo della sorella Trisha, per un film che parte con questo ritmo lento, con questi due ragazzi con dei dialoghi perfettamente scritti, che parlano praticamente in macchina, che sembrano reali insomma, e poi piano piano, con il giorno piano incomincia a salire però la tensione appunto con il sole, e il nostro quando finisce in quel tubo è una scena veramente meravigliosa, con questa panoramica che gira e fa scoprire davvero cosa c'è dentro, ma è proprio l'impossibilità di fermare questo male, che è un'altra cosa veramente che colpisce alla stragrande, compreso quel meraviglioso 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 finale, per un film assolutamente incredibile, quando parte questa canzoncina Jeepers Creepers vuol dire che il nostro è molto molto vicino, ed è un film che mette paura, un film ansioso, un film che ti dà proprio questa sensazione di essere inseguito, è veramente una grande opera, Victor Salva è stato distrutto per quello che ha fatto e per il quale aveva pagato da giovane, che continua a pagare e continua a lavorare, ma questo film quindi mostrava tutto il suo talento artistico, artisticamente intoccabile, perché è veramente assurdo come riesce a montare, come riesce a dare questo senso di forza a questo personaggio che è diventato epico e mitico ed è uno dei più grandi cattivi degli ultimi 25 anni, probabilmente il più grande, è veramente fantastico, se sì siamo di frontarti il clown a tutti questi che hanno avuto un successo e che sono diventati iconici, Jeepers Creepers ha una forza proprio nella scrittura, ha una forza nel modo di essere descritto, ha una forza lovecraftiana, ha una forza appunto nel suo dover stare decine di anni rinchiuso per poi uscire, che ripeto porta i grim e porta appunto a una favola che ci fa scoprire le paure un'altra volta inconsce, le nostre paure primordiali e quindi è un film assolutamente da non perdere, dove non c'è nemmeno troppo splatter ma dove comunque c'è questa idea gotica, questa cupezza che ci prende dall'inizio alla fine e poi quando scende il sole il film veramente sale a dei livelli assoluti, per me è un piccolo capolavoro del genere che trovate qui sotto su Amazon se volete comprare la vostra supporto non video, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube e avere il super grazie insomma di aiutarmi direttamente qui sul canale, poi se volete andate su Patreon e avrete la vostra mini recensione o seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per Italia, ripeto questo Jeepers Creepers è un piccolo capolavoro, 2001 Victor Salva con pochissimi soldi riesce a tirare fuori una pellicola che è ganzissima come di quando è un road movie, è perfetta quando diventa un giallo thriller ed è veramente devastante quando arriva l'orrore puro, imperdibile. Grazie a tutti